Buonasera, i primi due brani che ho suonato sono stati The Reaction, il primo brano che abbiamo suonato che è tratto dal mio secondo disco intitolato Remarco, però l'ultimo si chiama secondo, Corrosion tratto dal mio ultimo disco al titolo Homeland, volevo cogliere l'occasione per presentare il mio trio Andrea Casali al basso, il grandissimo Roberto Guardia alla batteria e oggi è il suo compleanno Grazie 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 Grazie